Una media di 290 euro a bimestre per ciascun bambino, ma i genitori dei cuccioli che frequentano l'asilo e il delfino dove scoppiato il caso della maestra accusata di maltrattamenti vogliono di più dal comune di Rimini. La donna è stata rimessa in libertà lo scorso 7 giugno dal tribunale delle riesame, prima infatti si trovava ai domiciliari. I carabinieri la arrestarono dopo la visione di alcuni filmati che la ritraevano, secondo il PM, maltrattare i bambini. Poi in ottobre il colpo di scena, la Cassazione ha annullato il provvedimento di ritorno in libertà per la ex maestra, questa ora è tornata in servizio al comune ma non nel settore scolastico. A prescindere da come andrà il processo i genitori sono sul piede di guerra e chiedono ora la restituzione totale delle rette versate lo scorso anno scolastico. Palazzo Garampi dal canto suo ha già restituito nei mesi scorsi una parte delle somme versate dai genitori di quei 26 bambini che ebbero a che fare con la maestra accusata di maltrattamenti. Ma i genitori non si arrendono e pretendono un rimborso totale. Due le famiglie inoltre che avrebbero cambiato asilo ai figli per i comportamenti della donna non è escluso il ricorso alle vie legali.